In questa puntata di Unicam News, successo per la nuova edizione del Master Unicam in scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici, il progetto Talking Ads dello spin-off Unicam Linux si aggiudica anche alla finale nazionale. Da metà febbraio prenderà il via il game, scienziato a chi? Dedicato agli studenti Unicam. Nei giorni scorsi la prima seduta del nuovo comitato unico di garanzia. Ben trovati al consueto appuntamento con Unicam News, questi i nostri titoli, ma vediamo insieme il primo servizio. Ha preso il via nei giorni scorsi presso la sede Unicam di Civita Nova Marche la settima edizione del Master di secondo livello in scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici di Unicam, diretto dalla professoressa Piera Di Martino. Il Master, che ha da sempre riscosso molto successo e ha visto molti iscritti, ha registrato quest'anno una impennata rispetto alle edizioni precedenti, raggiungendo il numero massimo di iscritti, a fronte di numerose e ulteriori richieste pervenute e che non è stato possibile soddisfare. Il corso, che si propone di formare laureati in discipline scientifiche nell'ambito della cosmetologia, offre una concreta opportunità nell'accesso alle diverse professioni del settore cosmetologico, dal farmacista esperto in cosmetologia al formulatore all'interno delle aziende cosmetiche, al responsabile della produzione, all'esperto nel regolatorio e nell'area marketing. Il Master risponde ampiamente alle esigenze di formazione che vengono dal settore, come dimostrato dai dati estremamente positivi relativi alla ricaduta occupazionale di coloro che hanno conseguito il titolo. Tutti i diplomati del Master sono infatti impiegati ed hanno trovato lavoro nel settore di loro interesse. Unicam dunque si pone oggi come università di riferimento nelle marche e a livello nazionale nella formazione e nella ricerca cosmetologiche. Ancora importanti i successi per lo spin-off Unicam Linux, che sta riscuotendo sempre maggiori attestazioni sulla valenza innovativa del progetto Talking Ads, il guanto che consente la traduzione della lingua italiana dei segni. È grazie a Talking Ads infatti che si sono aggiudicati la finale italiana della Civas The Venture e ora rappresenteranno l'Italia nella fase finale dove concorreranno con altre 27 idee innovative provenienti da altrettanti paesi di tutto il mondo per aggiudicarsi il premio finale di un milione di euro. È andata bene anche questa volta, adesso ci sono aperte le porte per la finale mondiale, faremo tre giorni a Oxford di formazione e poi avremo la finale mondiale ad Amsterdam il 24 maggio. Ora grazie all'organizzazione italiana del Civas Venture dovremo girare alcuni video, ci stiamo già organizzando per il nostro viaggio a Oxford di tre giorni di cui parlava Francesco e migliorare tutte le parti di presentazione del nostro progetto di Talking Ads per avere qualche speranza nella finale mondiale. Sarà una bella sfida? Sì, essendo Talking Ads attualmente ancora un progetto di ricerca, quindi ancora non abbiamo venduto nessun pezzo, tutti i finanziamenti che abbiamo cercato, che abbiamo ottenuto grazie a delle start-up competition ci sono stati veramente di grande aiuto. Il tema è molto pratica, dovremo avere un prodotto pronto per l'industrializzazione per questo giugno, poi faremo una fase di testing con la comunità delle persone sorde e dopo ciò gli ultimi ritocchi al prodotto per poi avere effettivamente un qualcosa di vendibile. Ringraziamo ancora Unicam per averci dato questa opportunità che tre anni fa ha creduto in noi, dandoci la possibilità di fondare questo spin-off e mettendoci in contatto con persone delle grandi competenze che ci hanno aiutato, come ad esempio la PQSPA di Ancarano guidata dall'ingegner di Pietrantonio. E' questo il tema del gioco a squadre che l'Università di Camerino sta organizzando per animare le serate degli studenti che prenderà il via nella seconda metà di febbraio. Si tratta di una sfida a squadre sotto forma di quiz. Nelle fasi iniziali per ogni serata a sfidarsi saranno squadre di studenti e docenti di una stessa scuola di Ateneo. Le cinque migliori squadre, una per ciascuna scuola, si sfideranno poi nella serata finale nella quale sarà decretata la scuola vincitrice. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dall'Ateneo, sia per offrire momenti di svago e di aggregazione per gli studenti, sia per accrescere il senso di appartenenza alla scuola. Oltre a partecipare al gioco, infatti a mettersi alla prova con domande sia di cultura generale che attinenti al proprio percorso di studi, gli studenti dovranno essere presenti per sostenere con il tifo le squadre in gara. Tutte le informazioni dettagliate saranno presto disponibili nel sito www.unicam.it. Con il nuovo mandato rettorale sono stati rinnovati anche gli organi accademici Unicam, tra cui il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e il mobbing. È composto da Giovanna Ricci, Diego Dalben, Anna Rita Attili, Carlo Santini, in rappresentanza del personale docente e ricercatore, Gabriele Vitale, Carla Mancinelli, Claudia Caprodossi, Anna Silano, Manuela Verdolini, in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, Chiara Borghetti, Gaia Muccichini, Agnese Camilloni, Stefano Brunetti, in rappresentanza degli studenti. Nel corso della prima seduta, alla quale hanno partecipato anche il rettore Unicam, Claudio Pettinari e il direttore generale, Vincenzo Tedesco, è stato anche eletto il presidente, nella persona della professoressa Giovanna Ricci. E con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Unicam News, mercoledì alla stessa ore. Vi ricordo che potete trovare tutte le notizie relative all'Università di Camerino nel sito internet www.unicam.it. www.unicam.it.it